Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador per l'Italia di Bim Santori. Oggi parleremo e degusteremo insieme Cita, che ovviamente non è la scimmia di Tarzan, ma è il nome della distilleria ed è anche il nome della penisola in cui appunto la distilleria di Cita sorge. Cita, distilleria che apre nel 1972 proprio in questa penisola ed è la prima distilleria che produce single grain in Giappone. Infatti in questo caso siamo di fronte a un whisky single grain prodotto a partire da 100% mais, quindi come materia prima abbiamo solo mais. Un whisky che però ha un processo di distillazione molto particolare, infatti è composto da tre sostanzialmente whisky, un whisky quindi un 33% di questo whisky fa una distillazione a doppia colonna che invecchia in botti ex bourbon, un 33% invece fa una distillazione a tripla colonna che invecchia in botti ex sherry e infine un ulteriore 33% fa una distillazione a quattro colonne e invecchia in botti ex vino europeo. Questo fa sì che Cita, single grain appunto di casa Santori, abbia questo bellissimo balance tra le note più morbide e mielate del bourbon per finire con le note più fruttate date dal legno che ha contenuto sherry e vino. Il colore si presenta di un bel giallo dorato con questo naso che subito ci rimanda a note floreale ma a note anche agrumate e a note leggermente erbacee. In bocca al sorso si compone di dolcezza queste belle note di vaniglia date sicuramente dall'utilizzo di botti ex bourbon, queste note di miele e fiori che ritornano e un finale leggermente pepato che appunto si può collocare tra lo zenzero e il pepe nero. Kanpai!